Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Salerno ha arrestato, in flagranza di reato, un uomo per detenzione e fabbricazione illegale di materiali esplodenti. L'uomo, fermato mentre era alla guida di un furgone aziendale, è stato trovato in possesso di 100 ordigni esplosivi rudimentali. Ne è seguita una perquisizione domiciliare, durante la quale gli agenti hanno rinvenuto altri 116 ordigni esplosivi, confezionati artigianalmente, privi di qualsiasi tipo di marchiatura ed etichettatura, quasi 4 kg di polvere da sparo, una bilancia di precisione e altro materiale necessario per la fabbricazione degli ordigni. L'operazione, che si è tenuta nel capoluogo, rientra nella rete dei controlli in vista del prossimo capodanno. La Guardia di Finanza di Salerno, infatti, effettuerà una serie di controlli in queste ore, sia per la tutela del commercio legale, sia per evitare problematiche relative allo scoppio dei fuochi pirotecnici.